Una partita molto fisica nel quale comunque la cosa più importante è stata la difesa nel quale comunque noi ci eravamo preparati appositamente o appartamento infatti il nostro allenatore ci ha detto di fare e noi abbiamo fatto come ci aveva detto anche per tre settimane abbiamo preparato la pratica per la difesa e siamo riusciti a mettere in atto quello che ci aveva detto per quanto riguarda loro comunque sapevamo che la difesa era molto rognosa che c'erano questi cambi anche di difesa dal giorno, dopo, presso e ci eravamo preparati anche a questo solo che noi non abbiamo saputo sfruttare molto bene i contropiedi per il quale comunque loro sono stati comunque bravi hanno saputo sfruttare i nostri erboli per il quale tutti noi non siamo riusciti a sfruttare loro